Senti, io cerco di vedere di che si tratta e tu resti qui ad aspettare i piatti del giorno, ok? Perfetto. Ce l'avete un telefono? È di fuori. Grazie. Ecco i piatti del giorno. Grazie a tutti. Ehi, ce l'hai la grana per pagare questa roba? Sì, sei contante, dollari, dinero. Hank! Sì? Qui c'è uno che ci sta marciando. Che cosa? Non hai soldi per pagare. Togliti, prenda. Senti, stronzo, io mi sono fatto il culo tutto il giorno a cucinare quella roba. Il cibo era ottimo. Lo so anche io. Il problema è come fai tu a pagarmelo. Non lo so. Non lo sai, quanto è carino, eh? Io ti spacco la faccia, stronzo. Non voglio farle del male. A me! Non vuoi farmi la bua? Che stronzo! Ehi, passi! Fagli vedere chi sei, Tom! Vai! Vai tu, Tom! Fagli vedere! Dai! Cliff! Io voglio solo mangiare. Desidera? Eh, senta, un numero locale, prefisso KL5, il dottor Christopher Grego. Ehi, senti un po'! Dai, go! Dai, go! Dai, go! State trovando il locale! Ehi, giù le zatte, frutto figlio di puttana! Che qua c'è chi te la fa pagare! Desidera? Ospedale militare? Sì. Mi scusi, potrebbe dirmi l'indirizzo per cortesia? EC87 Clinton Avenue. Clinton. Perfetto, la ringrazio molto. Oh, Cristo! Era buono? No. Oh, Cristo! Oh.